Forse non tutti sanno che, secondo la Costituzione, il Presidente della Repubblica ha il comando delle forze armate. Se scoppiasse una guerra sarebbe lui a orientare le scelte. Ma c'è molto da fare anche in tempo di pace e Mattarella lo sa bene. Per i 70 anni della Nato in Italia è andato al comando di Lago Patria di Giuliano, nord di Napoli, e ha scommesso sul futuro. La vita della comunità internazionale rende sempre più evidente l'importanza dei principi che sin dall'origine costituiscono il fondamento su cui si è formata e si è poi estesa l'Alleanza Atlantica. I valori di libertà, coesione sociale, condivisione della sicurezza collettiva, rispetto e comprensione reciproca tra i popoli e le diverse culture. Quello che si voleva doveva fare in Afghanistan, ma così non è stato. Per il capo dello Stato, l'agosto nero di Kabul è l'occasione per mettere a punto, dice, una alleanza militarmente forte e al contempo politicamente sempre più efficace nel perseguimento di una politica di pace e di affermazione dei diritti dell'uomo. Mattarella insiste sul fianco sud della Nato, in Mediterraneo, dove però i soci stanno su fronti opposti, in Siria come in Libia. La Turchia fa il suo gioco, la Francia pure. Macron, che due anni fa diagnosticò la morte cerebrale della Nato, è arrabbiato per essere stato tagliato fuori dal patto anticina tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. Biden guarda a est, a Pechino e Mosca. Ma anche qui a sud succede qualcosa di grosso, ricorda Mattarella.